Ciao ragazze e ciao ragazzi, si sono ancora sistemata in questo modo ma ancora un pochino di tempo e volevo finire la carrellata delle recensioni che ho selezionato, dei prodotti che ho selezionato allora giù nell'info box come nei video precedenti trovi la lista completa dei prodotti che hai visto per recensire spoiler sono due quindi non sarà lunghissima sono prodotti di idratazione corpo e viso che sto utilizzando nell'ultimo periodo sono entrambi parte del regalo che mi ha fatto una mia amica a Natale e ovviamente sono pronta per recensirveli se ti piacciono i miei video mi raccomando supportami con un pollice in su e iscrivendoti al canale dopo il preambolo possiamo partire questo prodotto di cui voglio parlare è un burro corpo della saponaria allora si chiama crema solida nutriente lenitiva corpo e massaggio al karité e al cacao cosmetici biologici anche questo è vegan andiamo un attimino in italiano scatolina esterna cartoncino da riciclare va bene la carta guscio protettivo interno 100% cellulosa biodegradabile più PLA da conferire nell'umido burrino solido da usare fino all'ultimo ricciolo scadenza aprile 2022 qualche altra informazione vabbè c'è l'inci c'è qualche altra informazione allora un burrino solido dal profumo caldo di natura che regala positività e buon umore scivola dolcemente sulla pelle e si scioglie con il suo calore per avvolgersi nel suo morbidissimo abbraccio la sua ricca ricetta è a base di burro di cacao e burro di karité cera di jojoba e olio di cocco nutrienti e lenitivi è un perfetto trattamento di atrante quotidiano una coccola avvolgente dopo la doccia il prodotto giusto per una pelle luminosa morbida deliziosamente profumata estrai il panetto dal vasetto e poi passalo sulla pelle lascerà un vero nutriente profumato ripeti se necessario affinché la pelle non ne sarà sazia un piccolo ma concentrato attenzione soffro il caldo che carino da conservare in un luogo fresco qualora inizia a fare caldo ma quanti grammi sei? sono 45 grammi allora la confezione in cellulosa è questa con un tappino di plastica e il burrino ormai è diventato questo è la metà di quello che era non so se si vede si? ok giusto la metà ha un profumo molto dolce e avvolgente come descrive effettivamente la confezione l'unica cosa che non è diciamo super veritiera rispetto alla scatolina è il fatto che sia facilmente che si scioglia facilmente sul corpo solo a contatto ci vuole un pochettino per renderlo morbido tale da poter essere massaggiato sul corpo non è difficilissimo veramente ci vuole pochissimo però non è che lo passo così ok e dopo devo solo massaggiare no di solito lo passo più e più volte su uno stesso punto specialmente dove devo insistere un pochino di più e il prodotto piano 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 si scioglie e diventa morbido abbastanza da rilasciare questo film sul corpo e dopo vado a massaggiare il tutto e a idratarmi il profumo che rilascia è di una morbidezza e un calore molto profumato molto goloso mi piace veramente tanto non unge estremamente il corpo anzi lascia la pelle morbidissima non unta si assorbe rapidamente e lascia questa scia di profumo dolce e goloso per tanto tempo io ho fatto la doccia praticamente poche ore fa poche ore fa almeno 5 ore fa la sento ancora addosso la sento ancora il profumo specialmente in questa zona qua che sono le zone più calde del corpo si sente si emana questo profumo dolce che lascia quasi la scia ed è molto carino poi è veramente morbido veramente morbido 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 mi piace tantissimo poi secondo prodotto di cui voglio parlare era in questa confezione qui è una confezione del Love Bio Women Life is Better with Bio della la marca è la Bema allora il prodotto che voglio ricensire è questo è un trattamento idratante 24 ore trattamento studiato per garantire idratazione continua attivo per 24 ore con contenuto un contenuto prezioso di principi nutritivi e protettivi come l'aloe e il filodendro in peziosito e potenziato dall'olio amazonico di pracaxi ricco di acido bebenico credo fondamentale per favorire i processi di rigenerazione della pelle e ricostruzione del film idrolipico protegge e ammorbidisce la pelle in profondità va bene dicono di metterlo due volte al giorno sul viso e due volte e massaggiare allora da 50 ml qualche altra info no la crema si presenta in questa bella barattolino in vetro con plastica e ha anche il coperchietto di protezione e questa è la cremina all'interno è color crema non è proprio bianca bianca rispetto a questo non è bianchissima è quasi una spuma morbida leggera che idrata veramente tantissimo l'ho iniziato ad utilizzare quando avevo le elette del naso massacrate dal raffreddore che mi è durato praticamente tre settimane quattro settimane ho perso il conto ero tutta distrutta mi faceva veramente tantissimo male le narici e qua ero tutta rossa ho iniziato ad utilizzare in quel periodo mi ha idratato e anche sfogliato perché c'è l'acido ovviamente non è un acido fortissimo però ha aiutato a togliere le cellule morte per poi rigenerare anche perché la crema che ho utilizzato prima era non tantissimo idratante rispetto a questa sta anche lei però ricca di acidi per dare modo alla pelle di rigenerarsi credo che alla mia età oggi ne compio 36 le creme che hanno questi acidi che ti esfoliano leggermente di volta in volta il viso e ti aiutano a rigenerarlo e sono idratanti sono le migliori perché ovviamente non abbiamo ancora bisogno di un super lifting che ci tiriamo le orecchie per non avere più rughe però abbiamo comunque bisogno di quel quel guizzo in più quell'acidino eccetera che ci aiuta tantissimo comunque questa crema mi piace tanto non ce n'è bisogno di tantissimo metto poche gocce su tutto il viso massaggio collo e decolletè e lascio assorbire dopo ovviamente ci sono tutti i massaggi da fare del caso però mi sento veramente idratato lo utilizzo sia come crema giorno che come crema notte notte non notte e ovviamente se esco e c'è il sole metto aggiungo una crema con fattore di protezione perché questa non ce l'ha per il resto mi sta piacendo veramente tanto ovviamente sono state due bellissimi regali da parte della mia amica poi ha anche un buon profumo che non guasta mai ok recensione per questo video finiscono qua se ti sono state utili mi raccomando supportami con un pollice in su se non vuoi perdere i miei prossimi video c'è sempre giù il tastino dell'iscrizione o qui nell'ultima schermata ti invito ovviamente a cliccarci io ti ringrazio per avermi aperta e nulla ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba ciao